Il grande fratello Vip7 è una polveriera. Dentro e attorno alla casa più spiata d'Italia c'è un clima incandescente. Nel corso del prime time di giovedì, 6 ottobre c'è stata la clamorosa e rabbiosa cacciata dallo studio di Sara nella notte che ha fatto seguito alla diretta, invece, nel loft di Cinecittà Patrizia Rossetti è letteralmente esplosa, insultando Pamela Prati, con la quale ha avuto una furibondalite, e Alfonso Signorini, reo, a detta della conduttrice, di aver concesso privilegi non meritati all'ex tardi a innescare il caos. È stata la decisione del GFVip di dare alla Prati una stanza singola con bagno privato, richiesta che invece la Rossetti si è vista negata, perché lei si merita la camera singola. Ha scandito con parecchia stizza Patrizia innanzi ad alcuni viponi in cucina, senza però rivolgersi direttamente a Pamela, cosa che è avvenuta da lì a pochi minuti. Allora sai cosa ti dico? Che domani mi levo dalle pa, e perché mi hanno già rotto i cogl? Avere queste attenzioni per alcune persone, e per altre no non va bene, ha aggiunto la regina delle televendite per poi citare direttamente il conduttore del reality show. Con tutto l'affetto, Alfonso, mi hai fatto una promessa. Vai un po' i affanni. Cristina 40 ha provato a placarla, invitandola a calmarsi. Risultato? Che poco dopo si è scatenato un gran trambusto in quanto si è palesata a Pamela. Le telecamere non hanno ripreso interamente quanto accaduto, ma a narrare la vicenda ci hanno pensato gli coinquilini. C'era Pamela che camminava e Patrizia ha cominciato a urlare, ma questa vi sembra una che sta male? Guardatela, ha raccontato già Elede Donai, che aveva assistito alla regia e quindi tornata su Patrizia, mandando in onda il momento finale della sfuriata, con la Prati, che ha replicato agli insulti ricevuti.